Prima di precipitare nel vuoto, Martina Rossi ebbe una violenta colluttazione. A confermarlo sarebbero i segni sul corpo. Il quadro lesiva all'occhio sinistro, alle labbra e alla spalla sinistra si legge infatti nelle oltre 90 pagine che accompagnano la decisione della Corte d'Appello di Firenze, che ha condannato a tre anni di reclusione i due giovani aretini accusati di tentata violenza sessuale di gruppo. Non è compatibile con la caduta da un'altezza di 21 metri ed è sicuramente compatibile con una colluttazione avvenuta tra Martina ed Alessandro Albertoni all'interno della Camera 609 dell'Hotel Sant'Anna di Palma di Maiorca o con entrambi gli imputati. Questo l'elemento nuovo che finora nei precedenti processi non era mai stato sottolineato. La verità processuale ricostruita dai giudici fiorentini è che all'alba del 3 agosto 2011 i due giovani di Castiglion Fibocchi erano sotto effetto di sostanze stupefacenti e la ragazza avrebbe reagito al tentativo di violenza sessuale, come dimostrano i graffi al collo di Albertoni. A quell'aggressione Martina sarebbe infatti riuscita attenacemente ad opporsi e poi avrebbe cercato una via di fuga nel terrazzo dove tentò di attraversare il muretto divisorio con la camera adiacente dove dormivano i cittadini danesi e dove avrebbe potuto certamente trovare rifugio. Purtroppo la giovane vuoi per lo stato di shock e di comprensibile panico vuoi per un fattore occasionale, si legge nelle motivazioni, perse la presa e precipitò. La tesi dell'aggressione per la prima volta viene perorata nelle motivazioni anche dalla scomparsa dei pantaloncini e del pigiama della ragazza. Secondo la corte infatti tale sparizione non trova spiegazione se non che entrambi gli imputati o uno di loro tolse con violenza i pantaloncini di Martina nel tentativo di avere con quest'ultima un approccio sessuale. Nelle motivazioni infine sulla base delle risultanze processuali la ragazza viene definita solare respingendo così ogni tipo di ipotesi di suicidio. Insomma la ricostruzione dei consulenti di parte civile della famiglia di Martina Rossi che da anni si batte per aver giustizia e verità per la figlia sarebbe stata raccolta in pieno dalla corte.